Musica Si prospetta una stagione positiva per il porto di Alghero, fiducioso il presidente del consorzio Giancarlo Piras, ma ci sono criticità da superare, attesa per il via libera al piano regolatore. Sulla stagione estiva arriva l'allarme di CNA Sardegna, la drastica diminuzione del numero dei voli da e verso i principali scali europei e l'aumento vertiginoso dei costi di viaggio rischiano di ostacolare il flusso di viaggiatori internazionali verso l'isola. Finalmente operativo è il parcheggio multipiano di Piazza dei Mercati, oggetto in questi mesi di un intervento straordinario di manutenzione con lavori di adeguamento e messe in sicurezza. Ben ritrovati telespettatori di CatalanTV, questi erano i titoli del nostro sommario, crescita e criticità. Dunque in primo piano oggi nel nostro telegiornale il porto di Alghero, stagione che si prospetta positiva, ma per un ulteriore sviluppo sarà importante approvare il piano regolatore. Il bilancio approvato di recente palesa la salute dei conti del porto di Alghero, ma contempla anche diversi interventi e progettualità, tra cui la realizzazione, a breve, di un nuovo pontile e poi la cura del decoro e altre iniziative che saranno comunicate per tempo. Il tutto è in vista di una stagione che si prospetta positiva, detta del presidente del consorzio Giancarlo Piras. La stagione si presenta abbastanza positiva, intanto perché il porto di Alghero è pronto ad ospitare barche, non solo quelle stanziali, dove abbiamo l'occupazione oggi al 100%, ma anche sui transiti che si prevedono abbastanza buoni. Abbiamo delle strutture ben organizzate, quindi in grado di poter ospitare i transiti, comprese noi per quello che possiamo fare, e stiamo affrontando alcune criticità che oggi esistono, ma che con la disponibilità delle autorità marittime, della regione Sardegna, del comune di Alghero, speriamo di poterle affrontare e risolvere per migliorare alcuni servizi che sono oggi disperati. Criticità che potrebbero essere superate anche grazie all'approvazione del piano regolatore del porto, strumento atteso e che permetterebbe di garantire maggiori servizi e anche più ricadute economiche sul tessuto produttivo cittadino. Il piano regolatore, quanto ne so io, è in stato avanzato di predisposizione, perché il progettista sta lavorando, l'amministrazione lo sta seguendo con molta attenzione e ci auguriamo quanto prima che possa essere approvato. Questo anche per, ripeto, per superare quelle criticità che ho appena accennato e che darebbero un forte impulso al porto di Alghero. In considerazione anche del fatto che il progetto della regione Sardegna per l'approvazione di un piano della portualità dei porti della Sardegna si può inserire all'interno di questo progetto con alcune indicazioni per il porto di Alghero, che noi abbiamo fatto direttamente e abbiamo inviato alla regione stessa. Attese notizie positive da parte della regione, con cui ci sono continue interlocuzioni anche sul molo di soprafflutto, che se messo a regime potrebbe garantire diverse possibilità di crescita di servizi e posti di lavoro, oltre che il miglioramento del decoro. Un'infrastruttura importante che potrebbe ospitare grosse imbarcazioni, che darebbero sicuramente un forte impulso all'economia locale. Nell'estate 2022 la Sardegna dovrà fare i conti con un'offerta di trasporto aereo verso i principali scali europei che si allontana da quella dei suoi competitor naturali più virtuosi, come le Baleari e la Croazia. E' quanto rimarcato da un report della CNA, secondo cui la drastica diminuzione del numero dei voli da e verso i principali scali europei e l'aumento vertiginoso dei costi di viaggio rischiano di ostacolare il flusso di viaggiatori internazionali verso l'isola. Arrivare in Sardegna dall'estero nel periodo di ferragosto quest'anno sarà più complicato e decisamente più costoso. Una drastica riduzione dell'offerta aeroportuale da e verso i principali scali europei e l'aumento vertiginoso dei costi di viaggio, infatti, rischiano di ostacolare il flusso di viaggiatori internazionali verso l'isola. Lo si evince dalla simulazione di booking con cui, come ogni anno, la CNA Sardegna confronta numero di collegamenti, prezzi e accessibilità delle principali destinazioni vacanziere del Mediterraneo per definire le condizioni dell'offerta aeroportuale sarda. Dopo un 2021 positivo, quest'anno si registra una preoccupante inversione di tendenza. Sebbene il rincaro dei prezzi di viaggio, in parte legato alla crescita dei costi, carburanti e servizi aeroportuali, sia generalizzato, la Sardegna, tra le principali regioni competitor, Baleari, Croazia, Creta, Cipro, Corsica, Sicilia, Algarve, è l'unica ad aver visto ridursi in maniera significativa l'offerta aeroportuale, un segnale non certo incoraggiante in un contesto economico, nazionale e internazionale, mai come oggi carico di incertezze ed elementi di rischio. Quello che emerge dal report CNA è che la Sardegna risulta in effetti l'unica regione tra quelle considerate ad aver invertito il trend positivo avviatosi dopo il crollo dell'anno pandemico. Rispetto al 2021, l'offerta aeroportuale dell'isola, definita come numero totale di combinazioni possibili, è crollata del 14%. A titolo di Paragone, la Corsica, che tra le regioni considerate e quella che mostra i numeri più modesti, ha visto crescere l'offerta del 10%. Creta e Cipro si collocano oltre il 30% rispetto ai livelli del 2021, le Baleari e la Croazia al più 25%, seguite dal Garve, Sicilia e appunto la Corsica. Se si guarda il periodo prepandemico per il settore aeroportuale regionale, che in questi anni ha dovuto fare i conti, con il progressivo ridimensionamento dell'offerta low cost e con la cessazione di attività di Alitalia, il confronto è impietoso. In tre anni si sono perse oltre 2.000 combinazioni. Ma non è solo il numero di combinazioni a determinare la competitività dell'offerta, bisogna considerare anche i costi di viaggio. Si trova che, anche in questo caso, la Sardegna sembra perdere terreno. Il costo medio andato e ritorno per un viaggio in Sardegna di una famiglia tipo di 4 persone, provenienti dai principali aeroporti del centro Europa, a ferragosto del 2022, prenotando fine maggio, risulta praticamente raddoppiato circa 1.260 euro contro il 641 del 2021. Va detto che il prezzo dei biglietti è aumentato ovunque, in larga parte a causa della crescita del costo dei carburanti. La Sardegna è tuttavia la destinazione che ha visto lievitare maggiormente i prezzi, più 97% rispetto al 2021, seguita dall'Algarve, Cipro e Sicilia. Di positivo c'è che torna a calare il tempo medio di viaggio, circostanza che riflette la disponibilità di voli diretti dei principali aeroporti centro-europei verso gli scali dell'isola. Per aggiungere Alghero, Cagliere e Olbia, infatti il tempo medio di viaggio nel 2022 si è quasi dimezzato, portandosi a circa 4 ore, in linea con il periodo pre-pandemico, simile al tempo di viaggio verso Palma di Mallorca e Ibiza, un'ora e meno rispetto alla media dei voli verso la Corsica e circa 2 rispetto agli aeroporti croati considerati. Da sottolineare come questo dato rifletta però anche la posizione geografica baricentrica della nostra isola rispetto agli aeroporti di partenza, inclusi nella simulazione tutti gli aeroporti di Londra e Parigi, Francoforte, Berlino e Monaco di Baviera. L'analisi dell'offerta aeroportuale, in un momento di forte incertezza e fragilità per l'economia nazionale ed europea, fornisce indicazioni non positive in vista della stagione estiva, commentano Luigi Tomasi e Francesco Porcu, rispettivamente il presidente e segretario regionale della CNA Sardegna. Nell'estate del 2022 l'isola dovrà infatti fare i conti con un'offerta di trasporto aereo verso i principali scali europei che si allontana da quella dei suoi competitor naturali più virtuosi come Baleari e Croazia in termini di numero di voli, costi di viaggio e numero di voli diretti. La speranza, concludono, è che la propensione al viaggio di turisti europei, alimentata anche dal tesoretto di risparmio accumulato durante l'anno pandemico, rimanga elevata. La politica ora perché oggi riprendono i lavori delle commissioni permanenti del Consiglio regionale, tutte impegnate nell'esame dell'assestamento di bilancio per le parti di competenze. Il provvedimento sarà presentato questo pomeriggio alle 16.30 in commissione bilancio dall'assessore della programmazione Giuseppe Fasolino. Il disegno di legge 335 completerà il suo iter con i pareri della commissione Autonomia, Pubblica Istruzione e Lavoro con l'audizione dell'assessore Andrea Biancareddu, Governo del territorio, attività produttive e sanità. In quest'ultima commissione è prevista l'audizione dell'assessore Amarioni Eddu sia per l'assestamento di bilancio che per la proposta di legge numero 336 che proroga di fatto i contratti del personale sanitario assunto per le attività di contrasto all'emergenza Covid. Giovedì invece torna a riunirsi dopo oltre un mese il Consiglio regionale, il primo appunto all'ordine del giorno e la sostituzione di Antonello Peru, il consigliere di Udici Sardegna, centro sospeso per effetto della legge Severino. Gli subentrerà il primo dei non eletti nella lista di Forza Italia nella circoscrizione di Sassari, l'ex sindaco di Alghero Marco Tedde, già consigliere regionale nella precedente legislatura. Nel già avviato solco di radicamento politico della buona destra in Sardegna, dopo aver nominato coordinatore della provincia di Sassari Sergio Grimaldi, quest'ultimo di concerto con il direttivo regionale, ha nominato con nuovo coordinatore il cittadino Antonio Baldino, 49 anni, vigile del fuoco, già membro del coordinamento algherese Baldino avrà il compito di provvedere alla nomina dei vari responsabili dei settori produttivi, economici e sociali del partito ad Alghero e a svolgere l'attività programmatica e di sviluppo della buona destra nel territorio. A lui si legge in una nota diffusa dal coordinatore provinciale, lo stesso Sergio Grimaldi, il sostegno e gli auguri di tutto il direttivo regionale per un sereno e proficuo lavoro. Finalmente operativo il parcheggio multipiano di piazza dei mercati, oggetto in questi mesi di un intervento straordinario di manutenzione con lavori di adeguamento emesse in sicurezza. Nuovamente a disposizione dunque i 240 posti auto che in stagione estiva fanno decisamente comodo i ritardi nelle forniture di materie prime e di attrezzature. Avevano rallentato i lavori con la riapertura inizialmente prevista il 15 giugno e che è stata posticipata di qualche giorno. Di particolare importanza i lavori per il ripristino dei dispositivi antincendio per un importo complessivo di 54 mila euro, ma anche gli interventi straordinari di manutenzione. Previsti comunque ulteriori investimenti anche per il posizionamento di colonnine per la ricarica di mezzi elettrici. Intanto era importante riaprire il parcheggio che aveva la guardia neonotturna per tutta l'estate dalle 22 alle 6 del mattino. Nei giorni scorsi dal comune hanno reso note anche le tariffe degli abbonamenti con residenti, commercianti, titolari di attività e dipendenti, liberi professionisti che pagano 30 euro mensili, proprietari di case non residenti 60 euro, mentre il prezzo per non residenti e turisti è di 100 euro mensili. Gli abbonamenti, lo ricordiamo, possono essere sottoscritti presso la sede della società in ausi in via Diez numero 29, tutte le mattine dalle 9 alle 12 e il pomeriggio previ appuntamento da fissare contattando il numero 079 9143 309 oppure il 342 38 39 066. Ci fermiamo ora, facciamo una pausa per la pubblicità. Ritorniamo subito. Rieccoci in studio, l'Università di Sassari promuove anche quest'anno la Summer School Unis Test, la scuola estiva che prepara i test di accesso e i corsi di laurea a numero programmato. Questa iniziativa è destinata agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori e a coloro che sono già in possesso di diploma e che intendano iscriversi ai corsi di medicina e chirurgia, odontoiatria, professioni sanitarie e medicina veterinaria. Come nelle precedenti edizioni, il corso è gratuito e si svolgerà in presenza preso il polo universitario di Via Vienna. L'accesso è limitato a 220 posti che verranno assegnati mediante iscrizione da effettuarsi attraverso un apposito link all'indirizzo www.unis.it slash summer school unis test a partire dalle 10 del 28 giugno, quindi di oggi e fino alle 10 del giorno successivo, quindi domani 29 giugno. L'attività della scuola si articolerà dal 18 al 29 luglio con lezioni e esercitazioni sul metodo di studio e sui principali argomenti oggetto del test e in una seconda fase dal 29 agosto con prove simulate dal test di ammissione con correzione commentata da docenti e tutor di Ateneo. Questa iniziativa rientra tra le attività del progetto orientamento all'istruzione universitaria o equivalente che è finanziato dal POR FSE Regione Sardegna 2014-2020. Per tutte le informazioni relative ad Unistest sono attivi l'indirizzo email unistest.unis.it e i contatti telefonici 331-2699-176 o il 331-2699-239. La scuola dell'infanzia alla Pedrera, conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, ha riaperto le porte ai genitori dopo due lunghi anni di chiusura a causa della pandemia da Covid-19. Lo scorso 15 di giugno è stata celebrata la festa delle famiglie fuori nel giardino della scuola. In questa occasione si è voluto dare un saluto particolare ai bambini e alle bambine dell'ultimo anno di frequenza che si sono esibiti in un semplice ma curioso balletto a ritmo di rap. Successivamente con grande emozione da parte di genitori ed insegnanti hanno ricevuto il diploma per il passaggio alla scuola primaria. Sono seguiti poi i laboratori di arte e creatività che hanno impegnato sia i bambini che i loro genitori che hanno dato spazio alla fantasia realizzando dei bellissimi elaborati. Per concludere, i bambini e le bambine dell'ultimo anno con il supporto delle maestre hanno accompagnato i genitori attraverso un percorso allestito all'interno dell'edificio scolastico illustrando ed esponendo con le loro voci le attività e i progetti svolti nel corso dell'anno scolastico. Le insegnanti ringraziano le famiglie, gli alunni e le alunne per la disponibilità e la partecipazione. Ancora una volta scrivono «E' stato dimostrato che scuola e famiglia insieme formano una grande squadra nella speranza che a settembre possa tornare definitivamente alla normalità. Noi insegnanti insieme a tutti i bambini chiudono dalla scuola della Pedrera. Insieme auguriamo a tutti buone vacanze». Pani tradizionali e non solo, anche al centro di Alghero arriva una costola del panificio Cherchi di Olmedo con la scommessa di un giovane che porta avanti la tradizione di famiglia. Siamo andati alla bottega del Buongustaio per intervistare il titolare Luca Masia. Con Luca Masia siamo alla bottega del Buongustaio che è la tua scommessa. Dopo due anni terribili di pandemia non facili, che hanno visto comunque tante attività purtroppo chiudere, tu invece hai voluto scommettere con i prodotti che sono poi quelli che ti caratterizzano da quando sei piccolo perché tuo papà fa il pane e tu rivendi pane e prodotti tipici. «Sì, allora dopo due anni di pandemia ho deciso, era già un progetto che avevo già da tantissimi anni, che avevo chiuso nel cassetto. Diciamo che era un mio sogno chiuso nel cassetto. Finalmente con l'aiuto, con il supporto della mia famiglia e della mia compagna sono riuscito a realizzare questo mio piccolo sogno». «E quindi qui hai parlato della tua famiglia, rivendi il pane che poi tuo papà fa in panificio a Dolmedo, il panificio Cherchi». «Sì, ho voluto iniziare proprio da loro, dal paneificio della mia famiglia e poi ho seguito le orme di mio padre, ovvero riportare i prodotti dell'agro, del territorio d'Alghero, qua in bottega». «Quindi una sorta di rivendita di pane, ma non solo, perché chi viene può trovare comunque delle specialità del nostro territorio». «Sì, esatto, dall'olio, dal mirto, dal pane tradizionale, il mercoledì e il sabato quello con il lievito madre, un po' di tutto. Il territorio d'Alghero è dentro la mia bottega». «Alla fine hai deciso anche di aprirla in una via centrale, nel quartiere di Sant'Agostino». «Sì, ho cercato vari locali ad Alghero e ho trovato il punto ottimo, molto trafficato, ottima zona, piena di turisti, di residenti e ho deciso di ancorarmi qua». «Ed ora lo sport, appena archiviato l'Alghero Open, è iniziato lunedì il Riviera del Corallo Open, il secondo torneo internazionale di Wiltshire Tennis, organizzato dalla SDC Sardinia Open sui campi del Tennis Club e Targato e Ambiente. Nel tabellone maschile è partito bene ieri Luca Arca, testa di serie numero due, che ha superato in due sette il giapponese Kawai. Nel secondo turno affronterà ora Dario Benazzi, che ha battuto nel derby italiano Andrea D'Agostini. «Successi azzurri» anche per Salvatore Vasta su Paolo Tontodonati, Edgar Andres, Scalvini Lozano su Giovanni Pilia e Giovanni Zeni su Gianluca Mantini. Nel femminile, tra le italiane e i quarti di finale, tutte controteste di serie, Giulia Valdo, che ha battuto Francesca Baldini e sfiderà la numero uno Emanuele Morsch, Maria Paola Tolu, che in tre sette ha battuto Roberta Faccoli e adesso avrà l'olandese Lizzie De Griff, la numero quattro del seeding e vincente nell'Alger Open. E poi Marianna Lauro, che ha approfittato del forfè della Svizzera Anna Berribo e che giocherà contro la numero due Britta Wen. Nei quad, il numero uno Alberto Sai entra in gioco contro Davide Giose, che ha battuto Massimo Girardello. Nei quarti di finale anche Gianluca Giovagnoli, che gioca contro lo svedese Anders Hardora, testa di serie numero quattro e vincitore dell'Algero Open. E Alberto Corradi, che esordisce contro la numero due, Mika Ishikawa. Ancora uno straordinario risultato per i talenti della SD Taekwondo Olmedo, questa volta al campionato nazionale giovanile Kimmen Liu 2022, svoltosi a Roma presso il Parco del Foro Italico Sede del CONI, organizzato dalla Fondazione Italiana Taekwondo, in concomitanza con il World Taekwondo Grand Prix Roma 2022, un evento mondiale dove la SD Taekwondo Olmedo è stata rappresentata dalle vice campionesse italiane Giulia Sacco e Matilde Pugioni. La SD Taekwondo Olmedo ha partecipato a tutte le competizioni del Kimmen Liu 2022, nella specialità Forme lo ha fatto con Aurora Zedde, Nicol Sini e Sofia Oggiano, conquistando due ore e un argento, titolo italiano e medaglia d'oro ad Aurora Zedde, già medaglia di bronzo al campionato italiano Forme. Oro e titolo di campionessa italiana giovanile per Melanissini e la sua prima esperienza nazionale, medaglia d'argento e titolo di vice campionessa italiana per Sofia Oggiano, interprete di una gara strepitosa. Nella specialità Combattimento, riservato alle categorie Kids, 10-11 anni, il sodalizio olmedese ha partecipato con Sofia Oggiano, Carolina Maresca e Nicolò Piras, conquistando due argenti e un bronzo. Sofia Oggiano ha quindi bissato il titolo di vice campionessa italiana, Nicolò Piras invece alla sua prima esperienza nel campionato italiano giovanile ha ottenuto una meritata medaglia d'argento e il titolo di vice campione italiano giovanile. Carolina Maresca ha conquistato invece una medaglia di bronzo. Un bel bottino quindi con sei medaglie per cinque atleti, due titoli italiani, due medaglie d'argento e il bronzo che appagano tutti gli sforzi profusi in questi lunghi mesi di preparazione. Il prossimo appuntamento per la SD Taekwondo Olmedo sarà il torneo internazionale Coppa Chimera 2022 ad Arezzo con la specialità Forme e Freestyle. Il Taekwondo chiude l'edizione di oggi del nostro telegiornale. Ora il meteo come sempre. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Grazie.